allora ragazzi avendo rivisto il mio filmato nel mio gameplay ho scoperto dove sono i restanti mancanti cioè io ho i restanti stealing lott mancanti che non riuscivo a trovare cioè dove c'era quella porta che richiedeva scasso 50 e allora adesso io ho scasso 50 come vedete ve lo faccio vedere ho scasso 50 perché sono avanzato di livello ho già aperto la porta però i stealing lott non li ho presi però per farlo vedere in questo gameplay che fonderò eccoci qua quindi andiamo lì qua in fondo veloce veloce qua le relazioni ci ammazzano ecco giù 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 si era quella famosa porta che non riuscivo ad aprire che già ho aperto perché avendo rivisto il mio gameplay ho capito che era lì e effettivamente poi visto che l'ho aperta ho avuto ragione visto che all'inizio adesso non potevo aprirlo perché avevo 48 di scasso eccoli qua guardate sono qua tutti i restanti stealing lott che mi mancano ora diminuiamo eh ragazzi ho i 100 stealing lott che ho presi eccolo qua 100 stealing lott d'acciaio ve li faccio vedere guardate un attimo varie eccole qua leggete ragazzi barra d'acciaio 100 o 100 stealing lott d'acciaio ve ne posso andare anzi un attimo che controlliamo cosa potete scartare il coltello questo lo scarto eh scarto pure idem lancia fiamme che è pesante no le miglia a fermentazione mi servono questa è la scarto la ripariamo perfetto tipo di piombo lo scarto perché ho bisogno di fare un pochettino di spazio perché è uguale a 100 quindi va a 220 e ce la dovrei fare ce la dovrei fare ce la dovrei fare a ottenere tutti i miei premi bonus quindi ora ritorniamo dal nostro simpaticone a cui portare le 100 bar di stealing lott d'acciaio e ci compenserà con diversi bonus ecco qua ancora il pit non è finito ancora c'è tantissimo c'è tantissimo da fare ma mi interessa aver finito la missione dei 100 stealing lott che onestamente mi ha un po' stressato che qua non è stato facile ma per fortuna pur avendo io sbagliato a dividere i miei punti abilità su una cosa non ho sbagliato che mi ricordavo che qui bisognava avere 75 di scienza per attivare i miei amici robot che onestamente qua in zona come dicevo hanno fatto piazza pulita e non sono stato più attaccato perché proprio che hanno spazzati tutti quindi avendo a scienza 75 il pit questa volta è stato abbastanza facile allora qua noi abbiamo preso tutto abbiamo preso e andiamo a consegnare le nostre 100 stealing lott d'acciaio altizio ecco qua eccolo qua ok eccolo qua guarda un pochino chi ce l'ha fatta ecco il nostro simpaticone ora torna dentro e fa il tuo dovere si è scemo ci sai fare prendi questi ti potranno aiutare nei combattimenti il proprietario non potrà più usare è stato condannato a morte allora eh dove trovo la scuola d'acciaio ecco qualche sbarro metallo per il laminatorio allora hai qualcosa da darmi credo di poterti dare questo è una filtrazione aggiunta nulla ecco qualche altra barra cioè altre 10 barre d'acciaio hai qualcosa da darmi sembra proprio che te lo sia meritato se torni da fuori questi dovrebbero aiutarti con i troglotiti allora ti da puni di acciaio aggiunto allora no è la solita domanda ecco qua metallo per il laminatorio esatto altri 10 barre li diamo hai qualcosa da darmi se questa volta ti do un po' di metallo questa armatura è stata appositamente realizzata per uno dei combattenti della fossa ottima contro i proiettili è però inutile se cadi da un ponte ecco te credo questa è l'armatura in metallo del maestro aggiunto questa è una bella armatura niente di meglio vediamo altri indotti di acciaio hai qualcosa da darmi è una cosa un po' strana l'ho trovata da un idiota fuori dalla città qualche genio ha armeggiato con il laser ha lucidato delle gambe qualche prisma vi ha generato uno spettacolo di luci metalli blaster metallo aggiunto questa è una bella arma 9600 mila di microfusione ok bene indiamo altri 10 barre puoi scommetterci guarda che stile questa armatura indossala e tutti vorranno stati vicino che significa che saranno a portata del tuo raggio esplosivo eh allora armatura questa è un'altra bella armatura niente di meglio che un po' di duro lavoro eh allora altri 10 barre d'acciaio credo che te la sia messa apparteneva a un sacerdote del deserto ha detto che anti proiettili di sicuro sono stati fatti degli esperimenti ma è stato un divertimento davvero esagerato allora riprendeli poi aggiunto prendo queste ok gli diamo altri 10 barre tutto il metallo che procuri credo che ne valga la pena di darti una mano con quei trogloditi ecco qua questa roba ha rispedito trogloditi e gulla monovini provala subito allora e battitela aggiunto niente di meglio che un po' di duro lavoro eh eh si chiediamo un attimino probabilmente non dovrebbero l'azione della segna di terra ecco questa è la migliore arma in assoluto un po' lenta al grilletto ma tutta potenza e precisione usala con saggezza allora poi fra che c'è aggiunto altro metallo per il laminatorio la solita domanda e con queste sono 100 le sbarre trovate esatto avevo dubitato di te pensando che non ne avresti portata neanche una ti sei guadagnato il pezzo forte della mia collezione questa armatura risale al tempo in cui la confraternita aveva tentato di distruggere il pit alcuni dei tribali che adonavano Ashur l'hanno venerata come un dio provala anche tu chissà che non ti senta un dio anche tu eccola qua l'armatura atomica di attributa di Ashur ok non riesco a trovare altri sguardi ci sono altri luoghi in cui portare un altro sguardo non posso credere alle mie parole prenderemo altri operai per recuperare metallo dagli eviti ok ora va continua a portarti allora vediamo un po' ho 245 ho 245 quindi ho ancora un po' di spazio diamo una guardata alle nostre armi all'armatura d'igno queste armi pesanti più 10 più esplosivo questa è una ficosità poi ho l'armatura atomica di come si chiama tribale di Ashur ma non posso indossarla perché non ho l'adestramento per questa armatura però quando riuscirò a metterla più la maschera e portiere delu io praticamente sarò un terminator in terra quindi momentaneamente allora è il modello filtratore è sempre 10 questa è karma più uno vestita vabbè io mi metto l'armatura del il metallo del maestro ok ecco qua l'ho messa si l'ho messa quella è matura il metallo assomiglia per amare a quella che avevo dopo fra uova non importa ok qui finisce la mia video guida così io la unisco i due video quindi ragazzi alla prossima video guida del pit che ancora non è finito ciao ciao salviamo perfetto e fondo i nuovi video così con il tuo video una buona sera ragazzi alla prossima video guida ciao ciao